Assassini con la divisa! Assassini con la divisa! Assassini con la divisa! Oggi di nuovo in piazza a gridare verità e giustizia per Davide. Certamente, come ci possiamo fermare? Un processo falso, indignitoso, senza scrupoli, senza sentimenti, senza niente che poteva succedere di buono. Già si sapeva perché era un processo falso dall'inizio, quindi la cosa brutta è due anni di pena sospesa. Sai che significa? Significa che praticamente non ha avuto nulla, quindi è una vergogna, è una vergogna per la magistratura italiana. Oggi si sono messi la vergogna in faccia, come si vuol dire. Noi facciamo il nostro corso, continuiamo ad andare avanti affinché non riusciamo ad ottenere veramente una verità, perché già si è visto, la giustizia non l'avrà mai. La cosa schifosa è quella che a distanza di quattro anni un carabinieri che ti ammazza un figlio non c'è nemmeno un segno di perdono o di scuse alla mamma. Pure se noi non le accettavamo queste scuse perché a che servono. Però, per farti capire, fare un concordato con una persona che non si è nemmeno degnata di chiedere scuse alla mamma. Assassini con la divisa!